Per il secondo anno consecutivo Arezzo Sviluppo, l'azienda speciale della Camera di Commercio Aretina, ha vinto come capofila il Bando Toscano per la creazione del catalogo regionale per l'apprendistato professionalizzante su tutto il territorio provinciale, suddiviso in due aree, Arezzo-Valdichiana e Casentino-Valdarno-Valtiberina. Il progetto, dal titolo Apprendo per Corsi per Apprendisti 3.0, è stato presentato da un raggruppamento composto dall'agenzia formative delle associazioni di categoria e dai sindacati aretini, coordinati da Arezzo Sviluppo. Quest'anno è prevista la formazione di 1.740 nuovi soggetti, l'anno scorso era un pochino superiore come numero, infatti abbiamo fatto la formazione a oltre 2.000 persone ed è un percorso molto importante perché prevede proprio che questi ragazzi che vengono assunti per l'apprendistato per la prima volta debbano sviluppare un percorso formativo obbligatorio che varia a seconda del fatto che siano laureati, diplomati e quindi variano le ore di formazione. L'apprendistato, stabilito dalla legge 25 del 1955 ed aggiornato da successivi interventi normativi, oggi prevede tre diverse tipologie di contratto ed è rivolto ai giovani fra i 15 e i 29 anni, consentendo loro di acquisire una qualifica professionale all'interno delle aziende. Uno strumento prezioso anche per il territorio provinciale retino, dove il tasso di disoccupazione giovanile, secondo i dati Istat del 2015, è pari al 42,6% fra i 15 e i 24 anni. Questa è una bella attività che andremo a spletare sul territorio della nostra provincia, è un'attività che si aggiunge alle altre, che già come azienda speciale stiamo portando avanti, in tema di creazione di impresa, di assistenza alle aziende che operano sui mercati internazionali, partiremo a breve con dei corsi sulle modalità di esportazione, sulla contrattualistica, sulle aspetti doganali.